Bene, in questa lezione parleremo di probabilità condizionata, del teorema di Bayes e dell'indipendenza e queste nozioni ci serviranno anche per studiare un'interessante applicazione relativa alla valutazione dell'affidabilità dei tamponi usati per il coronavirus. Cominciamo con la definizione di probabilità condizionata. Allora, consideriamo due eventi A ed M con la probabilità di M diversa da zero. A questo punto possiamo definire la probabilità di A condizionata da M, che si indica con questo simbolo, e si legge probabilità di A condizionata da M, come il rapporto tra la probabilità dell'intersezione di A ed M, del cosiddetto evento congiunto della probabilità di A ed M, del prodotto A per M, divisa la probabilità di M, che è chiamato evento condizionante. Ecco, questa è la definizione formale, ma naturalmente può essere interessante cercare di capire meglio l'interpretazione di questa nozione di probabilità condizionata. A tale scopo consideriamo un mazzo di 52 carte e immaginiamo il seguente gioco, il seguente esperimento. Paolo pesca una carta e la probabilità che lui peschi il 2 di picche naturalmente è un 52esimo, perché nel mazzo di 52 carte c'è un solo 2 di picche. Immaginiamo che l'altro giocatore, potremmo chiamarlo Pietro, debba cercare di indovinare se Paolo ha pescato il 2 di picche. Naturalmente, se non ha nessuna informazione, la probabilità è un 52esimo e se dovesse scommettere sul fatto che Paolo ha in mano il 2 di picche, dovrebbe basarsi su questa probabilità. Supponiamo però che in qualche modo si è riuscito a sbirciare il colore della carta. Per esempio, il gioco si svolge su un tavolo di vetro che riflette le carte e nel momento in cui prendeva la carta, Paolo ha lasciato che attraverso il riflesso si capisse se la carta è una carta rossa o una carta nera. Siccome il riflesso non è nitido, non si capisce che carta sia, però si riesce a capire che è una carta di picche o di fiori. Allora, dal punto di vista di Pietro, la situazione cambia. Infatti, proviamo ad applicare la definizione di probabilità condizionata. In questo caso, l'evento condizionante è carta nera, perché io a questo punto voglio sapere qual è la probabilità che Paolo abbia in mano un 2 di picche, sapendo però che lui ha in mano una carta nera. Allora, questa probabilità condizionata si ottiene in questo modo. Devo prima di tutto vedere qual è la probabilità di M, ma la probabilità di avere una carta nera è 26 su 52, perché metà delle carte del mazzo sono carte di fiori o carte di picche. La probabilità del 2 di picche, ovviamente avevamo visto un 52esimo, ma la probabilità dell'evento congiunto A per M è la probabilità che una carta sia contemporaneamente un 2 di picche o è una carta nera. Beh, di carte che sono contemporaneamente 2 di picche e carte nere, ce n'è una sola, il 2 di picche, quindi qui di nuovo mi torno un 52esimo. Adesso applico la mia definizione, e quindi la probabilità di A condizionata ad M è uguale alla probabilità dell'evento congiunto, che è un 52esimo, diviso la probabilità dell'evento condizionante, che è un mezzo, qui vanno invertite numeratore e denominatore, e il tutto, alla fine, dà luogo a un 26esimo. Ecco, e che riflette effettivamente la situazione, perché nel momento in cui ho sbirciato il colore e quindi so che la scelta non è più tra 52 carte, la scelta è tra 26 carte, a questo punto la probabilità che in mano a Paolo ci sia il 2 di picche diventa effettivamente un 26esimo. Ecco, una notazione importante, le probabilità condizionate sono ancora probabilità, perché io a questo punto ho definito qualcosa di nuovo, quindi ho definito una probabilità di A dato M, così, ma questa probabilità di A dato M rispetta ancora tutte le regole e le proprietà delle probabilità? Sì, la risposta è affermativa, perché queste nuove probabilità rispettano a loro volta gli assiomi. Naturalmente bisogna definire l'esperimento giusto, l'esperimento che va definito è un esperimento condizionato, i cui esiti sono un sottinsieme degli esiti dell'esperimento di partenza, e sono tutti e soli gli esiti all'interno dello spazio S in cui si verifica M, quindi sostanzialmente tutti gli esiti inclusi in M. E quindi, però, in questo modo abbiamo un nuovo spazio degli esiti condizionati, abbiamo quello che potremmo chiamare un esperimento condizionato, e continuano a valere tutte le proprietà che noi conosciamo, quindi questo ci rassicura sulla possibilità di ragionare con le probabilità condizionate. Allora, adesso vediamo di nuovo un esempio sulla probabilità condizionata, e questa volta però ne vediamo l'uso per uno scopo un po' diverso. Quindi in questo esempio lo scopo non è tanto quello di calcolare una probabilità condizionata, ma è quello di sfruttare la definizione di probabilità condizionata per ottenere una probabilità congiunta. Allora, consideriamo una scatola che contiene tre sfere blu, come potete vedere, e due sfere rosse, e si esegue questo esperimento l'estrazione in successione di due sfere. Quindi metto la mano nella scatola e occhi chiusi tiro fuori una sfera, poi ancora ad occhi chiusi tiro fuori una seconda sfera. La domanda che mi pongo è qual è la probabilità che la prima sia blu e la seconda rossa? Ecco, questo potrebbe essere una domanda a cui a prima vista non è facile rispondere. Per rispondere procediamo per piccoli passi. Il primo passo in questo tipo di problemi è quello di definire in maniera rigorosa quali sono gli eventi. Quindi qui si vede che un evento di nostro interesse è quello che ho chiamato evento B1. La prima sfera estratta è blu e un altro evento di nostro interesse è R2. La seconda sfera estratta è rossa. Quello che viene domandato è la probabilità che si verifichino simultaneamente sia B1 che R2. Quindi l'esercizio ci domanda di calcolare la probabilità di B1 per R2, dell'intersezione tra B1 e R2, l'evento congiunto in altre parole. Allora a questo punto possiamo sfruttare la definizione di probabilità condizionata e riportare questo calcolo al prodotto della probabilità di R2 dato B1 per probabilità di B1. Infatti qui se voi vedete la probabilità di R2 dato B1, questa per definizione è la probabilità dell'evento congiunto divisa la probabilità di B1 che a questo punto porterà il denominatore. Se io uso la definizione di probabilità condizionata rovesciandola, in qualche modo, io posso calcolare la probabilità congiunta come prodotto di una condizionata per la condizionante. E questo in particolare non è difficile in questo caso particolare, perché la probabilità di B1 è la probabilità che la prima sfera estratta sia blu, ma qui siccome ci sono tre sfere blu su cinque alla prima estrazione, la probabilità è tre quinti che la prima sia blu. Il secondo calcolo che devo fare è la probabilità che la seconda sia rossa sapendo però che la prima è blu, ma se la prima è blu la tolgo rimangono due sfere rosse e due sfere blu e quindi la probabilità che la seconda sia rossa dato che la prima era blu diventa un mezzo e quindi alla fine, molto facilmente, ho trovato che la soluzione è tre decimi. E ho risolto il mio problema, che altrimenti poteva sembrare un po' difficile. Ecco, questo è un uso da tenere presente. Cioè, in molti casi, una probabilità congiunta può essere calcolata più agevolmente sfruttando la probabilità condizionata. E in particolare, questo è valido quando ci sono delle successioni di azioni. Quindi, vedete che qui, prima ho calcolato la probabilità che si verificasse il primo evento in ordine di tempo, cioè che la prima sfera è blu, e poi ho calcolato la probabilità che si verificasse il secondo evento, cioè la seconda è rossa, condizionato però al primo. E questo condizionamento ha fatto sì che questo calcolo sia molto semplice, perché una volta che io so che è stata tolta una sfera blu, calcolare la probabilità di r2 dato b1, come avete visto, è stato un gioco da ragazzi. Ecco, un teorema, diciamo che a questo punto possiamo enunciare, è quello della probabilità totale. Il teorema dice, se ho degli eventi m1, m2, mn, con probabilità di m1 diverso da 0, e questi eventi sono disgiunti, quindi la loro intersezione è vuota, e la loro unione è pari all'insieme universo, all'insieme degli esiti, in realtà basterebbe qualcosa di meno, basterebbe che la loro unione includa l'evento A, di cui diciamo dopo, allora la probabilità di un evento A può essere scomposta come la sommatoria di tante probabilità condizionate, ognuna moltiplicata per la probabilità dell'evento condizionante. Quindi, sostanzialmente, io posso calcolare la probabilità di A studiando una serie di sottocasi, cioè vado a vedere cosa succede ad A quando si verifica m1, cosa succede ad A quando si verifica m2, quindi mi calcolo tutte queste probabilità condizionate, e poi le ricompongo insieme pesandole con queste probabilità di MI. La dimostrazione è abbastanza facile, voi prendete l'evento A, ovviamente l'evento A è uguale all'intersezione di A con l'insieme universo, perché è così? Perché A è incluso in A e in S, e quindi l'intersezione di A ed S è ancora uguale ad A. A questo punto, per ipotesi, S era la somma di m1 più m2 più mn, quindi lo scrivo qui, vale la proprietà distributiva per gli insiemi, quindi ho am1 più m2 più mn, e la cosa importante è che siccome gli mi sono disgiunti, questi insiemi di cui considero l'unione, quindi ciascuno di questi, è disgiunto dagli altri, quindi questi insiemi sono, come si dice, mutuamente esclusivi. A questo punto, se devo calcolare la probabilità di A, mi trovo a calcolare la probabilità di questa unione, ma essendo mutuamente esclusivi, per il terzo assioma di additività semplice, mi ritrovo a calcolare la somma di queste probabilità, probabilità di am1, probabilità di am2, fino alla probabilità di amn. Ma, di nuovo, qui utilizzo quel trucco, per cui una probabilità congiunta può essere calcolata come una condizionata per la probabilità della condizionante. Lo sfrutto per am1, lo sfrutto per am2, lo sfrutto per amn, e ottengo il mio teorema della probabilità totale, quindi una dimostrazione estremamente facile. Facciamo un esempio così, proprio banale. Immaginiamo che ci sia un esame orale, in cui però l'interrogazione può essere svolta da due esaminatori. Può essere svolta dal docente titolare del corso, oppure può essere svolta da un ricercatore che aiuta il docente a fare gli esami. A noi interessa la probabilità che lo studente superi l'esame. Ecco, è possibile che il docente sia più o meno severo del ricercatore. Facciamo finta che il docente sia più severo. Allora, a questo punto, come faccio a calcolare la probabilità di superare l'esame? Allora, sarà la probabilità di superare l'esame sapendo di essere interrogato dal docente. E se il docente è molto cattivo, questa probabilità sarà molto bassa. Per la probabilità di essere interrogati dal docente. Più la probabilità di superare l'esame se si è interrogati dal ricercatore, per la probabilità di essere interrogati dal ricercatore. Ecco, come vedete, è un teorema molto intuitivo che ha questo pregio di permettere di scomporre il calcolo di una probabilità in una serie di sottocasi. Quindi, in questo caso specifico, l'esame potrebbe svolgersi in due modi diversi, con un'interrogazione da parte del titolare del corso o un'interrogazione da parte del ricercatore. E quindi io analizzo il primo sottocaso, analizzo il secondo sottocaso e poi li compongo utilizzando il teorema della probabilità totale. Un teorema molto importante a questo punto è il teorema di, noi diciamo Bayes, però bisogna dire Bayes. Il teorema di Bayes ci dice che la probabilità di M dato A è uguale alla probabilità di A dato M per P di M diviso P di A. Quindi l'aspetto un po' che salta all'occhio del teorema di Bayes è che sostanzialmente c'è un ribaltamento del condizionamento, cioè ci permette di calcolare la probabilità di M condizionata ad A a partire dalla probabilità di A condizionata ad M, quindi rovescia il condizionamento tra M ed A. Ha due formulazioni, questa è la formulazione, diciamo, base. La seconda formulazione dice che nelle condizioni di validità del teorema della probabilità totale, che abbiamo già visto prima, la probabilità di M e I dato A, quindi la probabilità di uno dei sottocasi dato A, ha questa espressione, il numeratore esattamente come questo, pur di mettere M e I al posto di M, e al denominatore, al posto di P di A, metto la sua espressione col teorema della probabilità totale. Quindi, a questo punto, come vedete, la probabilità di M e I dato A si calcola a partire dalle probabilità di A dato M e J, quindi bisogna sapere tutte le probabilità condizionate, però con A condizionato rispetto ai vari M e J, e poi bisogna sapere le cosiddette probabilità a priori, quindi le probabilità degli M, le probabilità dei vari M e J, bisogna sapere tutte le probabilità degli M e J. La dimostrazione. La dimostrazione è abbastanza immediata, abbiamo la probabilità di M dato A, che per definizione è probabilità dell'evento congiunto diviso la probabilità dell'evento condizionante, ma anche qui, utilizzando il solito trucco, la probabilità di un evento congiunto può essere scritta come probabilità condizionata per la probabilità del condizionante. In questo caso, la furbizia è quella di usare come condizionante, io potrei usare come condizionante sia A che M, ma qui, in questo passaggio, uso M come condizionante e ottengo esattamente l'espressione del teorema di Bayes. La sua seconda formulazione si ottiene immediatamente, sostituendo al posto di PDA nel denominatore, la sua espressione ottenuta tramite il teorema della probabilità totale. Ecco, un po' di terminologia. Quando si usa il teorema di Bayes, la probabilità PDM è spesso chiamata probabilità a priori. Perché a priori? Perché è la probabilità che ha l'evento M di verificarsi prima che venga effettuata l'osservazione su A, quindi prima di sapere che A si è verificato. Invece, PDM dato A è la probabilità a posteriori, quindi la probabilità di M dopo che sono venuto a sapere che A si è verificato. Il teorema di Bayes è di grandissima utilità nella diagnostica, per esempio. Quindi, facciamo subito un esempio pertinente. M potrebbe essere l'evento che consiste nella presenza di un guasto. Un guasto potrebbe essere in un dispositivo, in un macchinario, in un'automobile. E A potrebbe essere invece l'attivarsi di un allarme. Quindi, pensate alla vostra automobile, M potrebbe essere un guasto al motore e A è la spia del guasto motore che si accende, che si è accesa. Ecco, allora, tipicamente quello che succede è che c'è una certa probabilità a priori che ci sia un guasto, ma nel momento in cui si è accesa la spia del guasto motore, la probabilità del guasto sapendo che si è accesa la spia tipicamente è assai diversa e purtroppo, diciamo, di solito è decisamente maggiore, a meno che la spia non si accenda a caso. Però il concetto è che c'è una probabilità a priori prima che io abbia nessuna informazione e poi, una volta che mi arriva l'informazione sul fatto che sia verificato A, a questo punto cambia la probabilità dell'evento M e questa diventa, diciamo, la probabilità a posteriori. Lo stesso discorso che si fa per la diagnosi vale anche per la diagnosi medica. In questo caso, A potrebbe essere un sintomo o il risultato di una radiografia, di un esame del sangue o quello che volete. Ecco, e proprio lungo questa direzione vogliamo provare ad applicare le cose che abbiamo imparato sulle probabilità condizionate sul teorema di Bias allo studio del funzionamento dei test. In particolare, questo potrebbe essere proprio un test clinico, insomma, quindi un test per rilevare la presenza di una malattia. Ecco, quindi applicheremo quello che abbiamo visto a studiare la cosiddetta specificità e sensitività di un test. Allora, in particolare l'esperimento casuale di cui stiamo parlando consiste nel selezionare un soggetto e sottoporlo a un test per sapere se è malato. Adesso, noi qui stiamo facendo l'esempio di una diagnostica di una diagnosi in campo medico ma nulla cambierebbe se invece noi parlassimo di un dispositivo e se invece di malattia parlassimo di guasto o di difetto di questo malfunzionamento di questo dispositivo. Le tecniche statistiche sarebbero esattamente le stesse. Come al solito, come abbiamo già detto, è importante procedere per piccoli passi e il primo passo è sicuramente quello di definire in maniera precisa gli eventi. Quindi, qui, i due eventi di interesse sono M, il soggetto è malato, quindi l'evento M vuol dire che il soggetto è malato, M segnato vorrà dire invece che il soggetto è sano, quindi se io vado a negare l'evento M, e T, T sta per test, è l'evento, il test da esito positivo. Ecco, allora qui dobbiamo bisogno di introdurre un po' di definizioni, quindi dovete avere un po' di pazienza perché sono un po' tante e purtroppo c'è anche il rischio di fare un po' di confusione, per cui rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di elencarle una per una spiegando anche le relazioni che esistono tra queste grandezze. Allora, la prima definizione che diamo è quella di sensitività, qualche volta chiamata anche recall o anche true positive rate. Allora, la true positive rate è, qualche volta si dice la percentuale di test positivi sui soggetti malati, noi ci riferiremo alle probabilità, quindi è la probabilità di avere un test positivo se il soggetto è malato, naturalmente idealmente quando il soggetto è malato noi vorremmo che il test fosse sempre positivo, quindi che questa probabilità fosse uguale a 1, ma purtroppo questo spesso non è possibile e questo si chiama sensitività, quindi diciamo il test ha una alta sensitività se questa probabilità si avvicina a 1. La seconda definizione è quella di specificità, qualche volta chiamata anche selectivity oppure true negative rate. In questo caso stiamo parlando della probabilità di avere un test negativo se il soggetto è non malato, quindi idealmente noi vorremmo avere un'alta sensitività e anche un'alta specificità, quindi sui soggetti malati dovrebbero sempre avere il test positivo e i soggetti non malati, cioè i soggetti sani, dovrebbero sempre avere un test negativo e questo si esprime con la nostra notazione di probabilità condizionate come la probabilità di t segnato, cioè test non positivo, test negativo, condizionata al fatto che valga m segnato, vuol dire soggetto non malato, cioè soggetto sano. Ecco, per complicare un po' la vita si fa anche uso di altre definizioni, altre grandezze. In particolare si parla della probabilità dei cosiddetti falsi positivi. qui stiamo parlando della false positive rate. False positive rate che cos'è? È la probabilità di avere un test positivo quando il soggetto non è malato, quindi sostanzialmente voi avete un soggetto sano che fa l'esame, fa il tampone, fa il sierologico, tutto quello, un esame del sangue, una qualsiasi indagine e l'indagine risulta positiva come se lui fosse malato, ma lui non è malato, quindi questo è quello che si chiama un falso positivo. Con la nostra terminologia è la probabilità del test condizionato al fatto che l'evento che si è verificato è m segnato, quindi nella realtà siete in condizione m segnato, vuol dire non malato, cioè sano, e voglio sapere qual è la probabilità di avere il test positivo se il soggetto è non malato. Che relazione c'è con quello che avevamo visto prima? Beh, c'è una relazione abbastanza immediata perché la probabilità di t dato m segnato ovviamente è uguale a 1 meno la probabilità di t segnato dato m segnato. Ricordatevi che le probabilità condizionate sono a tutti gli effetti delle probabilità e quindi rispecchiano tutte le stesse regole, quindi se voi avete la probabilità di t è uguale a 1 meno la probabilità di t segnato e se condizionate nell'universo condizionato vale di nuovo che la probabilità di t dato m segnato è 1 meno la probabilità di t segnato dato m segnato. Ricordando che questa è la true negative rate ne viene fuori che la false positive rate è 1 meno la true negative rate. La true negative rate se voi ricordate era la specificità. quindi la probabilità di falsi positivi è 1 meno la specificità. Poi si introduce anche la false negative rate cioè la probabilità dei falsi negativi. Cosa si intende per falso negativo? Si intende la probabilità di avere un soggetto sano il cui test però risulta negativo quindi nella nostra notazione la probabilità di avere un t segnato che vuol dire test negativo non positivo cioè negativo cioè il test dice non nota niente il test condizionato al fatto che però il soggetto è veramente malato. Ecco questo viene chiamato false negative rate quindi è una specie di mancata segnalazione insomma e che relazione ha con quello che avevamo visto prima? Beh la probabilità di t segnato dato m è 1 meno la probabilità di t dato m questo vuol dire che la false negative rate è 1 meno la false positive false positive rate è la false positive la true positive rate che era invece la sensitività quindi in qualche modo questo si lega è 1 meno la sensitività ecco i falsi positivi i falsi negativi vengono talvolta anche associati a delle espressioni un po' pittoresche come condanna dell'innocente e assoluzione del colpevole cosa vuol dire condanna dell'innocente? vuol dire che qui c'è un paziente che non ha niente e noi gli stiamo dicendo che è ammalato oppure se fosse un apparecchiatura o un'automobile abbiamo un'automobile che sta funzionando bene e la spia invece dice no guarda che qui c'è un guasto in ambito giudiziario avremmo un innocente e tuttavia in qualche modo ci sono delle prove delle false prove contro di lui quindi ci sono non so uno ha fatto un test del DNA il test del DNA invece riconosce le sue tracce sul luogo del delitto ma invece in realtà lui non era mai stato sul luogo del delitto qui si parla invece di assoluzione del colpevole perché qui effettivamente c'è un malato quindi c'è un malato oppure c'è un'automobile che ha un guasto eccetera però l'allarme non scatta e quindi in ambito giudiziario questo sarebbe il caso in cui effettivamente c'è un colpevole ma diciamo non essendoci nessuna prova nessuna segnalazione alla fine risulta risulta assolto ecco queste sono le quattro grandezze fondamentali come vedete tra l'altro a coppie sono legate tra di loro quindi sensitività e specificità che si desidera che siano grandi vicino a uno oppure invece false positive rate e false negative rate che naturalmente si desidera che siano vicine a zero e legate tra di loro con queste relazioni che abbiamo appena visto ecco proseguendo con le definizioni si definisce anche un positive predictive value ovvero la probabilità di essere malato se il test è positivo quindi ci mettiamo nella condizione in cui il test è effettivamente il risultato positivo e però qui sorge la domanda ma sapendo che il test è positivo qual è la probabilità che il soggetto sia veramente malato alternativamente sapendo che si è accesa la spia del motore della mia automobile qual è la probabilità che ci sia veramente un guasto nel motore e associata a questa precision c'è la false discovery rate abbreviata FDR che è la probabilità di M segnato dato T cioè la probabilità di non essere malato se il test è positivo quindi qual è la probabilità di non avere il coronavirus se il tampone era positivo oppure nel caso dell'automobile qual è la probabilità che l'automobile non abbia nessun problema anche se si è accesa alla spia del motore che relazione esiste tra queste due grandezze precision e false discovery rate beh siccome tutte e due stanno condizionando rispetto a T chiaramente qui c'è un M qui c'è un M segnato sono complementari quindi la probabilità di M segnato dato T è semplicemente uguale a 1 meno la probabilità di M dato T ecco l'ultima definizione che diamo è la definizione di prevalenza in qualche modo è la probabilità a priori la probabilità di M cioè la probabilità che ha il soggetto selezionato di essere malato se ragioniamo in termini di popolazione quindi il soggetto viene prelevato da una popolazione di potenziali soggetti e la frazione di malati ecco qui sottolineo nella popolazione campionata perché questo è un dato fondamentale dimenticare questo può far prendere delle cantonate stiamo parlando di un esperimento casuale e l'esperimento casuale deve essere ben definito quindi è sicuramente molto diverso fare il test sulla popolazione generale quindi fare tipo un'indagine epidemiologica come ha fatto l'ISTAT con i test sierologici quindi io seleziono un certo numero di soggetti nella popolazione ma in maniera puramente casuale con un'estrazione casuale che non guarda fatto che loro abbiano sintomi non abbiano sintomi e in questo caso diciamo la prevalenza che io mi aspetto per esempio potrebbe essere relativamente bassa basandosi sul test sierologico fatto in Italia 2,5% sul territorio italiano 7,5% in Lombardia se invece il test viene eseguito su dei soggetti sintomatici e beh è chiaro che le cose cambiano perché la frazione di malati parliamo in questo caso di coronavirus tra i soggetti sintomatici quindi hanno tosse secca febbre dolore alle ossa e così via è sicuramente sostanzialmente più alta ecco quindi bisogna stare attenti che questo M questa probabilità di M non è definita in maniera univoca a prescindere da come è effettuato l'esperimento e quindi è fondamentale sapere dove si vanno a pescare i soggetti a cui viene somministrato il test ecco allora a questo punto come esempio possiamo cercare di calcolare la false discovery rate a partire da false positive rate e false negative rate quindi a partire dalla probabilità di falso positivo e di falso falso negativo come si fa? beh in realtà è una banale applicazione del teorema di bias perché la false discovery rate è la probabilità di non essere malati sapendo che il test è positivo a questo punto applico bias che mi permette di rovesciare questo condizionamento quindi mi dà la probabilità di test positivo dato soggetto sano per la probabilità di soggetto sano diviso la probabilità dell'evento condizionante in questo caso la probabilità del test positivo qui tra l'altro riconosco subito che ho 1 meno la prevalenza così e questo quindi è uguale il numeratore lo lascio tale e quale al denominatore uso il teorema della probabilità totale quindi la probabilità di t scompongo in due sottocasi cioè la probabilità di avere un test positivo quando il soggetto è malato quindi p di t dato m per p di m e la probabilità di avere il test positivo quando il soggetto è sano quindi la probabilità di t dato m segnato per la probabilità di m segnato la probabilità di t dato m segnato è la probabilità di falso positivo qui ho la probabilità di t dato m che naturalmente è uguale a 1 meno la probabilità di t segnato dato m e quindi 1 meno la probabilità di falso negativo. Quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo di esprimere la false discovery rate come una funzione oltre che della prevalenza della probabilità di falso positivo e di falso negativo, della false positive rate e della false negative rate. Allora, questo è abbastanza importante perché poi quando si va a studiare un test specifico queste quantità FPR ed FNR possono essere stimate e quindi stimando queste quantità e conoscendo la prevalenza si può per esempio capire qual è la false discovery rate. Ecco, una cosa importante è questo discorso della probabilità delle cause. Allora, l'essere malato o meno nel contesto del test può essere visto come la causa dell'esito del test. Quindi dal punto di vista temporale prima c'è una persona che è malata o che è sana, poi fa il test e chiaramente che il test risulti positivo o negativo è qualcosa che è influenzato dallo stato di salute del malato. Naturalmente qui non ci sono delle relazioni deterministiche, però è chiaro che noi ci aspettiamo che se il soggetto è malato sia più probabile che il test venga positivo, se il soggetto invece è sano ci sia una diversa probabilità almeno. Quindi la probabilità di T dato M, la probabilità di test positivo sapendo che il soggetto è malato, è la probabilità di un effetto, di una conseguenza, il test positivo data una causa, una premessa, cioè il soggetto malato. E di solito diciamo si capisce bene perché è una probabilità che segue un andamento causale, quindi la premessa, il condizionamento è lo stato di salute e si va a vedere qual è la probabilità di avere un certo risultato nel test sapendo lo stato di salute del paziente. Il teorema di Bias è prezioso perché permette di rovesciare il condizionamento, perché in effetti poi a noi interessa sapere se il soggetto effettivamente è malato o è sano. Quindi noi vorremmo più che P di T dato M, vorremmo capire cos'è P di M dato T, cioè ho un test che ha detto positivo ma sapendo che il test ha dato soggetto positivo, che probabilità c'è che veramente il soggetto sia malato? Quindi quello che mi interessa sarebbe trovare la probabilità della causa, quindi M dato l'effetto che è il test. Ecco, siccome il teorema di Bias ha questa capacità di rovesciare il condizionamento, talvolta viene anche proprio detto teorema della probabilità delle cause, quindi tenete presente. Quindi questo qui è la proprietà fondamentale del teorema di Bias che lo rende particolarmente potente e interessante per risolvere tutti i problemi, per esempio di diagnosi, sia in ambito medico che in ambito industriale, perché ci permette di quantificare la probabilità delle cause. E questa è la domanda a cui noi vorremmo rispondere, quindi qual è la probabilità che il paziente abbia il coronavirus, qual è la probabilità che questo macchinario si sia guastato.